Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch per poter passare i veicoli agli amici Allora per fare questo glitch ragazzi abbiamo bisogno di un amico che ci passa il veicolo Abbiamo bisogno di un centro operativo mobile In questo caso io andrò a prendere quest'auto qui Come dicevo abbiamo bisogno di un centro operativo mobile e di un'auto che useremo per fare il glitch E ovviamente la base operativa dovrà essere piena ragazzi Quindi passiamo al glitch Prendete il vostro veicolo e vi dirigete all'entrata della base operativa e dovete far comparire base operativa piena Quando avrete questo messaggio pigiate il tasto PS e subito tornate in game La schermata base operativa piena scomparirà Vi allontanate dalla base operativa E vi mettete da quest'altro lato ragazzi Quando siete su quest'altro lato che cosa dovete fare? Prendete e lanciate una molotov vicino all'estremità della base operativa Come state vedendo E vi mettete sulle fiamme E vi comparirà la schermata Quando il vostro amico vi dirà che le ruote hanno preso fuoco Pigiate X e vi suicidate ragazzi come ho appena fatto io Una volta fatto ciò fate richiedi un veicolo personale E quindi vi porterà la LG che avete appena usato insomma O quello che avete usato voi Non so che cosa andrete ad usare Quando avrete il veicolo ragazzi Il passo è semplicissimo L'unica cosa che dovete fare è Dovete andare dietro al centro operativo mobile Con un'attività recente già pronta Quindi andate prima in attività recenti Cercate un vostro amico che ha comprato qualcosa E vi mettete qui Fate comparire la schermata nera Andate su attività recenti Fate gioca GTA online Vi comparirà il messaggio esci Dovete premere cerchio Dopodiché scendete dal veicolo E tirate un paio di molotov all'entrata della base operativa Cioè all'entrata comunque qui all'estremità Vi dirigete nuovamente verso la base operativa Vi comparirà base operativa piena Il vostro amico vi dirà Giustamente quando le ruote hanno preso fuoco Voi schiacciate X E dopodiché vi dovete suicidare ragazzi Come avete visto l'auto scompare Allora se diciamo vi butta fuori dal veicolo E il veicolo scompare Vuol dire che il glitch sta funzionando ragazzi A questo punto Una volta che siete respawnati Dopo che vi siete suicidati Prendete l'auto del vostro amico E la mettete in garage Il glitch è semplicissimo ragazzi È veramente una cazzata Secondo me è anche più facile Di quello della Wenger Non lo so Poi sono punti di vista Quindi Dipende sempre da come la pensate voi Però Secondo me è abbastanza facile come glitch Più tardi cercherò di portare un Mone glitch Anzi il money glitch che ho portato oggi Però Fatto in maniera un pochino più semplice In maniera tale che Possiate diciamo sfruttarlo Al meglio ragazzi Detto questo Che altro aggiungere Spero che il video vi sia piaciuto Spero che vi sia utile Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ma che ne salve due mia